buongiorno e bentornati a medicina 33 e poi malattie tropicali neglette un miliardo di casi nel mondo l'italia al quarto posto in europa con 4000 ma il sommerso pare sia 10 volte di più ma che cosa significa cosa possiamo fare dobbiamo preoccuparci di questo parleremo con il nostro ospite in studio di oggi che il professor zeno bisoffi buongiorno professore direttore scientifico irx sacro cuore don calabria di negrara che è un irx che è riconosciuto proprio per le malattie infettive e tropicali bene allora professore noi parliamo di tutt'altro nel senso che il 30 gennaio è stata la giornata mondiale delle malattie tropicali neglette l'irx negrar per le malattie infettive per l'appunto tropicali ha ospedato un incontro di due giorni con l'organizzazione mondiale della sanità sulla malattia del chagas avete fatto il punto su questa e su altre patologie che dite non devono essere sottovalutate ma quali sono queste patologie dobbiamo preoccuparci sono una ventina di malattie infettive ma causate da diversi patogeni batteri virus protozoi parassiti quindi che cosa hanno in comune hanno in comune di colpire la parte più povera del pianeta il famoso ultimo miliardo e quindi di essere trascurate perché non rappresentano un grande interesse economico né per l'industria né per la ricerca allora però parlando in modo cinico diciamo così noi siamo in europa in italia perché dovremmo preoccuparci intanto per un dovere etico nei confronti del resto del mondo e poi anche perché alcune di queste malattie sono presenti anche da noi con case autoctoni e con trasmissione anche all'interno del nostro paese per esempio alcune malattie come la lesmaniosi cutanea viscerale come l'echinococcosi o come la strongiloidosi che adesso è rimasta come problema della popolazione anziana ma che può causare ogni anno decine di morti che solitamente non vengono nemmeno rilevate perché non vengono rilevate queste morti perché è una malattia talmente poco conosciuta e difficile da diagnosticare che spesso queste morti che sono delle morti per sepsi o per causa di ecco ma come si contrae questa malattia si contraeva camminando a piedi scalzi nel terreno agricolo contaminato da feci umane naturalmente adesso le condizioni igieniche l'hanno completamente eliminata però gli anziani che camminavano scalzi troviamo ancora veramente molti casi i casi diagnosticati individuati sono solo la punta dell'iceberg addirittura e ma i cambiamenti climatici però c'entrano qualcosa con questo ritorno diciamo di alcuni tipi di malattie cambiamenti climatici sicuramente centrano per esempio con le malattie trasmesse da zanzare non solo la malaria ma anche malattie come la dengue e la cicungune a virus tropicali che purtroppo come sappiamo hanno già causato epidemie anche nel nostro paese perché purtroppo l'antipatica zanzara tigre ormai ce l'abbiamo stabilmente anche i nostri climi certo beh diciamo che questo potrebbe essere il risvolto negativo della globalizzazione come abbiamo visto anche con il covid nel senso che basta qualche ora di aereo per chiunque di noi e questo può accadere cioè possiamo anche riportare lo dico banalmente nella valigia possiamo riportarci magari una zanzara o è possibile con il cambiamento climatico magari si acclimata bene qui da noi no la zanzara della valigia è in realtà qualcosa di molto studiato perché ci sono ogni anno dei rari per la verità casi soprattutto di malaria trasmesse proprio dalla valigia che viene in viaggiatore qualcuno la chiama anche la malaria della suocera ma non voglio approfondire il motivo poi diciamo che normalmente le antiche epidemie di peste ci mettevano settimane per non dire mesi a spostarsi da un continente all'altro adesso sono legati alla velocità dei naturalmente però allora vediamo che cosa si può fare perché una soluzione dovremmo trovarla immagino certo si possono fare molte cose diciamo non dimentichiamo intanto oltre alle necessità dei paesi maggiormente affetti quindi la necessità di aiutarli veramente da loro ma con programmi seri sappiamo che ci sono delle ng italiane che cooperano in modo molto serio per favorire l'accesso alla salute ma anche qui in italia abbiamo molte di queste malattie che non sono trasmissibili ma che sono prevalenti anche con migliaia di casi per esempio la schistosomia è una malattia grave perché può provocare addirittura il cancro della vescica oppure problemi epatici gravi come la cirosi ne abbiamo ancora migliaia di casi non è trasmissibile la nostra popolazione motivo per cui ce ne disinteressiamo il colmo è che il farmaco per curare questa malattia non ce l'abbiamo nemmeno a disposizione nel nostro paese ecco quindi però c'è una rete adesso è stata messa su giusto c'è una una nuova rete per le malattie tropicali neglette italiana che è stata fondata inizialmente dal professor fabrizio bruschi presidente della società di parassitologia ma che ha raccolto altre società scientifiche la società di malattie di medicina tropicale di malattie infettive e vari istituti tra cui il nostro alcune università diciamo che per la prima volta da due anni a questa parte gli italiani fanno rete per cercare di combattere le malattie neglette insomma il discorso è sempre il solito il mondo è uno solo e occuparci degli altri significa anche occuparci di noi stessi certamente grazie grazie professore e con questo io vi saluto come sempre vi do appuntamento con medicina 33 arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti